Ben tornati in un nuovo video, io sono un coniglio e oggi siamo qui per conigliare insieme No, non è vero, io non sono un coniglio e qui c'è Lucifer che mi fa compagnia a me a colato in questo fantastico video E nulla, oggi volevo farvi un video dove vi faccio vedere questo fantastico pigiama a coniglio Che io adoro, che ho preso ieri da Primark, sì perché ieri sono andata a Primark, al centro commerciale El Noss, a Brescia Ed è bellissimo insomma, ha anche una coda, e sapete dove è la coda? Provate a indovinare Sì, ha soldi dietro E nulla, volevo farvi vedere quanto è carino perché in realtà è tutto rosa, quindi io ho i capelli rosa, sono un coniglio rosa E sono molto 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 carina, ora però vi farò vedere in modo più dettagliato questo pigiama perché è fantastico, non posso non farvelo vedere Questo è il mio bellissimo pigiama, ho lo specchietto tutto storto Ok non fate caso a tutto quello che c'è qui dietro però, questo è il mio bellissimo e fantastico pigiama E questa è la mia bellissima e fantastica coda È tutto bellissimo e fantastico Ho trovato un cuore nella tasca È amorevole Un cuore E ora che vi ho fatto vedere il mio pigiama, proporrei di trovargli un nome Perché voglio dare un nome a questo pigiama, quindi voi dovete lasciare giù nei commenti un nome da dare a questo fantastico coniglio E sì perché comparirà spesso, l'ho già detto, non lo so, comparirà spesso E quindi diamogli un nome Non dimenticate di iscrivervi, lasciare un like e lasciare un commento E di mandarmi tanti baci perché ne mando tanti a voi Sono un coniglio